Buongiorno, dottore. Che è successo? C'è un problema un poco particolare. Io non riesco più a fare l'amore con mia moglie. Secondo me che dipende da quando in ospedale mi hanno messo il telepass. Il telepass. In ospedale, il telepass. Il bypass, non il telepass. Il telepass serve per far alzare la sbarra. E allora mi faccio mettere il telepass. Così diciamo... Ah, è una buona idea. Grazie dottore. Fammi sapere.